Facciamo un passo indietro, adesso abbiamo fatto degli interventi proprio di tipo sistemico programmatico, io volevo chiedere all'Avvocato Storelli a settembre se non prima viene dato per certo il nuovo quantitative easing da parte di Mario Draghi, qual è la sua valutazione in merito? Allora per quanto riguarda la procedura del quantitative easing, permesso che si parla di aspetti particolarmente tecnici per i quali non ritengo opportuno soffermarci troppo con il suo pubblico, però posso darle una mia idea di massima e cioè quella per la quale in assenza di un adeguato quantitative easing salta l'Euro, quindi se non vogliono far saltare l'Euro devono necessariamente continuare con questa politica anche un po' particolare perché il quantitative easing è una procedura escogitata dalla Banca Centrale Europea proprio per immettere liquidità e consentire all'Euro di andare avanti, ma sempre come se si trattasse di una bombola dell'ossigeno, cioè il paziente moribondo non si adotta la terapia per farlo riprendere, ma si adotta la terapia per procrastinare questo stato paravegetativo, il quantitative easing è questa soluzione. Ecco, quindi l'avevi anche, ma ancora parecchi mesi fa, l'avevi predetto Giancarlo, bisogna dartene merito, verrà riproposto e quindi Mario Draghi ripronuncerà il whatever it takes in pratica. Carlo ti ringrazio per averlo sottolineato. Allora, sul quantitative easing io spero che un giorno faremo una puntata solo ed esclusivamente su questo tema qua perché è fondamentale. Io dico solo questo, come tutti sapete il quantitative easing è stato fatto ancora prima dai giapponesi, dal Giappone, poi dopo durante la crisi dagli Stati Uniti e è arrivato un buon ultimo Draghi e quindi l'Europa. Però insomma a turno qualcuno nel mondo continuava a immettere liquidità. Gli americani l'hanno fatto in quantità industriale e Draghi non è stato da meno. Attenzione che cosa è successo? Un po' di tempo fa, ormai un bel po' di tempo fa, gli Stati Uniti hanno smesso, mentre in Europa avendo cominciato più tardi continuavamo con il quantitative easing. In Stati Uniti è stato smesso di immettere nuova liquidità, però quella che era già stata immessa non è stata drenata, continuava a rimanere in circolo e continuava invece a immettere nuova liquidità la Banca Centrale Europea. Ad un certo punto, ricordo anche questo fatto qua, il quantitative easing annunciato da Draghi doveva durare 18 mesi ed è durato 45 mesi ed è finito a dicembre, dicembre scorso, qualche mese fa. Quindi voi andate, io invito gli ascoltatori, andate a vedere il grafico di qualsiasi borsa, meglio se è quella americana perché così è più rappresentativa, a vedere che cosa è successo nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, ok? In cui c'era ancora il quantitative easing di Draghi, ma era molto diminuito come importo e in più, sì, oramai era stato annunciato che alla fine di dicembre sarebbe finito. Fine di dicembre le borse rimbalzano in una maniera incredibile perché dopo che è finito il quantitative easing si è immediatamente capito che si stava tirando via quello che l'avvocato Storelli ha giustamente detto, quella bombola d'ossigeno che teneva in vita il moribondo, ok? E quindi si è capito che sarebbe stata rimessa una nuova bombola d'ossigeno perché altrimenti il moribondo diventa morto, ok? E quindi questo è quello che sta avvenendo. Purtroppo non dobbiamo neanche, come non dobbiamo noi italiani esultare perché il nostro spread è sceso sotto i 200 punti, così il mondo non deve esultare per un primo semestre delle borse mondiali che è stato un semestre eccezionale, straordinario. Perché è stato un semestre eccezionale, straordinario non perché l'economia è andata particolarmente bene, ma perché si è capito che le banche centrali continueranno con questa storia. Conquista storia, praticamente conquista terapia non convenzionale in pratica.